Grazie a tutti, siamo qui insieme, mano nella mano, per ringraziarvi di essere stati così veloci nell'essere vicini e sostenere il progetto dell'ospedale di Camerino. Noi abbiamo raggiunto, grazie a voi, tutti insieme abbiamo raggiunto l'obiettivo e ora siamo pronti per la nuova iniziativa. Tantissime sono le richieste che ci arrivano, quindi giorno dopo giorno raggiungeremo nuovi obiettivi e saremo qui fianco a fianco per riuscire a sconviggere questo momento così duro per il nostro paese. Sono fiero e felice della vostra sensibilità, grazie.